Da Natale a Epifania flussi record al pronto soccorso al Caffoncello, in media circa 300 al giorno. A causa dell'influenza rispetto all'anno passato, codici gialli e soprattutto codici rossi sono sensibilmente aumentati. Da 859 a 1.089 i primi, addirittura da 95 a 152 i secondi. Dall'ospedale respingono l'accusa di non aver retto adeguatamente all'ondata di malati. È stata, dicono anzi, una prova di efficienza. Consideriamo che nel periodo tra il 24 fino all'11 di gennaio abbiamo avuto un più 11%, stiamo parlando di 5.500 accessi e soprattutto abbiamo avuto un aumento di accessi concentrato tra i codici bianchi e i codici rossi che sono aumentati il 30%, i gialli e addirittura duplicati i rossi e questo vuol dire un grande lavoro per il pronto soccorso. La questione principale da gestire è stata in realtà per pazienti critici, soprattutto persone anziane ma anche persone di media età e giovani che hanno subito dei sintomi molto significativi e anche delle complicanze per questa influenza. Questo è stato il motivo di accesso principale al pronto soccorso. Triage e barelle sono stati garantiti. Di contro non si è dovuto far fronte solo all'influenza tra i pazienti ma anche tra i medici. Questo ha comportato un super lavoro per rimpiazzare le assenze e tutto il personale ha risposto sempre in maniera adeguata riuscendo ad assicurare nella quasi totalità dei turni, ma direi praticamente nella totalità dei turni, la presenza completa. Situazione sotto controllo concludono dall'ospedale ma l'influenza tornerà a farsi sotto. Sappiamo che il picco gli esperti lo prevedono per fine mese quindi noi siamo in allerta sicuramente fino alla fine mese.